Il mondo della scuola a Campobasso vive una fase di trasformazione che per tendere al meglio ovviamente attraversa anche momenti di adattamento ed in un certo modo di sacrifici. Quelli che toccano gli alunni dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Dovidio di Campobasso saranno attutiti dal provvedimento che li porterà presto in via Berlinguer. L'assessore con delega alla scuola, Luca Praetano, ha infatti informato che è pervenuta l'amministrazione un'offerta praticabile che permetterà agli alunni di frequentare un istituto provvisoriamente mentre in costruzione la nuova scuola, ma comunque nel quartiere. La programmazione dell'edilizia scolastica di Campobasso aveva previsto, dice l'assessore, che a partire dall'anno scolastico in corso le scuole dell'infanzia dell'Istituto Dovidio di via Tiberio e via Berlinguer si trasferissero in un'altra sede temporanea, fino alla conclusione dei lavori di demolizione e ricostruzione dei plessi scolastici, trovando ospitalità all'interno dell'edificio di piazza della Repubblica con la prospettiva di trasferirsi dopo pochi mesi in locali che rispondessero meglio all'esigenza dei cittadini che abitano nei quartieri interessati. Oggi, dice l'assessore, questa soluzione è possibile perché è pervenuta un'offerta di una parte di edificio sito in via Berlinguer, affinché prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 le due scuole dell'infanzia tornino in luoghi molto vicini alle scuole in costruzione.